ciao a tutti e benvenuti sul mio canale e in un nuovo video vi faccio un video veloce proprio in occasione del black friday siccome io non ho preso tantissime cose e in questi giorni ci sono veramente molti sconti e per chi volesse ordinare da batten body works che è un brand che io amo ovviamente quindi diciamo io ordino spesso quando ci sono gli sconti può approfittarne proprio in questi giorni in occasione del black friday perché le offerte cambiano sempre quindi quella che vi faccio vedere adesso non sono sicura che ci sia ancora ma sicuramente ci sarà un'ulteriore offerta e conviene sempre ordinare quando ci sono questi sconti come potete vedere dall'ordine io ho fatto scorta di saponi perché noi li utilizziamo utilizziamo ormai quasi esclusivamente questi di batten body works e questa volta erano in offerta a 2 euro e 99 quindi un prezzo ottimo perché di solito costano sui 6 euro e 90 questi che formano appunto la schiuma non quelli in gel questi sono quelli appunto che formano tanta schiuma e durano veramente parecchio e quindi praticamente come vedete ho preso quasi esclusivamente quelli e in più ho preso qualcosa della profumazione che adoro mi vi lascio il link appunto nel video dell'anno scorso dove avevo preso sempre il bagno doccia però in versione mini e me ne ero pentita di vanilla bean noel che è la mia profumazione natalizia preferita e infatti ho preso diverse cose ora le vediamo nel dettaglio spero che questo video vi possa essere utile in occasione degli sconti del black friday mi raccomando prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale perché mi aiutereste moltissimo di lasciarmi un like se il video vi è utile e vi è piaciuto ovviamente quindi alla fine e mi raccomando seguitemi anche su instagram perché lì pubblico delle recensioni ma ora iniziamo subito iniziamo parlando subito della profumazione che adoro e che ho preso lo scorso anno quindi la conosco molto bene e questa volta però ho preso il bagno doccia nella versione full size vanilla bean noel era la profumazione natalizia che mi era piaciuta di più e sono contenta appunto che sia stata riproposta ed è veramente buonissima se vi piace la vaniglia il profumo di dolce ma non stucchevole è veramente un'ottima profumazione ovviamente se mi ricordo vi lascio in sovraimpressione le note olfattive o comunque il tipo di profumazione e ho preso appunto il bagno doccia che è veramente buonissimo poi la fragranza appunto per profumare la casa sono comodissime in versione spray e sono contentissima che ci sia appunto anche questa profumazione l'anno scorso non c'era infatti hanno fatto proprio una linea tutta dedicata a questa profumazione io sono veramente contentissima a parte la confezione che è bellissima sia nel colore packaging molto natalizia e questa profumazione l'ho subito utilizzata e si spruzza in una stanza tipo la cucina l'ho spruzzata in cucina che non è grandissima veramente rimane profumata per tantissimo tempo quindi ottima io un tipo di profumazione del genere la utilizzo anche in macchina a volte quando voglio dare subito un po di profumo mi spruzzo e rimane veramente per tantissimo tempo sempre in questa profumazione ho preso anche il la ricarica del profumatore appunto per ambienti che io ho e sono contentissima appunto che ci sia anche in questa profumazione probabilmente ho sbagliato a prenderne una sola potevo fare scorta questa profumazione è veramente buonissima passiamo ai saponi e ne ho una discreta scorta ne ho presi veramente tanti però ho deciso di prendere tutte le versioni natalizie perché erano carine per il periodo insomma comunque erano graziose da metterle in bagno e poi ero curiosa di provarle ho preso winter candy apple sinceramente l'ho annusata non sa proprio di mela mela candita è una profumazione dolce un po fruttata ma è molto delicata quindi così a una prima impressione mi piace poi vedremo quando quando la useremo è molto carino anche il colore e ovviamente il packaging poi ho preso questo frosted coconut snowball è sempre come potete vedere packaging natalizio e in questo caso è sull'azzurro blu scuro molto carino all'orso quindi con tutta la neve veramente bello in questo caso però il packaging è satinato non è lucido come quello di prima ma il sapone comunque alla fine la versione è sempre la stessa perché questi durano molto di più rispetto a quelli in gel quelli gel finiscono subito quindi danno più soddisfazione e questo sa un sì leggermente di cocco ma molto dolce molto delicato tra i due sì perché vi ho mostrato adesso sinceramente preferisco questo questo è veramente molto buono non pensate proprio al classico profumo di cocco più che altro quel cocco che trovate nei bagnoschiuma quindi molto delicato poi ho trovato questo heist cinnamon rolls e ovviamente cioè la cannella è assolutamente una profumazione natalizia per eccellenza packaging fantastico anche in questo caso lucido anche il colore rimanda un po la cannella e effettivamente in questo sapone la cannella si sente ma io sento anche un po di uvetta cioè mi sa proprio di panettone questo profumo mi sa di dolce natalizio quindi veramente buono penso che sarà proprio tra i primi che utilizzeremo anche questo in versione natalizia come tutti comunque saponi che ho preso mi sembra tranne uno però questo è molto particolare perché è al profumo anche di pesca e quindi comunque fruttato devo dire che una prima annusata si sente molto il profumo fruttato quindi non è proprio nelle mie corde ma volevo insomma cambiare poi a mia figlia piace molto il profumo di frutta quindi più che altro l'ho preso per lei io preferisco quelli un po più dolciastri biscottosi insomma che ricordano un po i dolci però è una pesca e comunque frutta abbastanza delicata leggera e dovrebbe essere comunque piacevole da utilizzare ovviamente non poteva mancare il sapone vanilla b noel che lo scorso anno non c'era o almeno io non ricordo ci fosse e quindi ho preso anche questo e spero di farlo durare tantissimo infatti non lo metterò subito in uso me lo tengo da parte packaging carinissimo e tutto verde appunto come tutta la linea con questa profumazione in versione quindi non natalizia ho preso questo sapone sunshine and lemons appunto agli agrumi al limone perché io utilizzo questo tipo di profumazione in cucina infatti se vedete i video passati avevo preso diversi saponi al limone e li ho utilizzati in cucina e mi sono trovata benissimo perché mandano via tutti gli odori di cucinato sulle mani quindi sono perfetti e ho trovato questa versione quindi mi piaceva sia nel packaging e satinato con il limone mi ricorda un po all'estate e volevo vedere appunto com'era questa profumazione di limone infine ho preso questo white coconut caramel ovviamente l'ho preso per colletto coconut cioè io tutti quelli a cocco li devo provare allora una prima annusata è molto diverso rispetto all'altro a cocco che ho preso questo è meno dolce ci sento sempre qualcosa un pochino di fruttato dentro e ovviamente vi scriverò tutte le informazioni sul video e perché qui non le trovo nel packaging e non mi ricordo se sul sito ci fossero però non ci sento molto il caramello pensavo che fosse più che ricordasse più un dolcetto in realtà no però è una profumazione molto piacevole qui il cocco si sente un pochino di più è molto fresca mi piace anche il packaging che è molto carino delicato particolare quindi secondo me in bagno sta anche benissimo e devo dire che questi saponi fanno proprio la loro figura nel bagno sono molto belli e se non vi piace solo il packaging così comunque vendono anche a volte sul sito i porta saponi ovviamente sul sito americano ce ne sono tantissimi qui da noi non tanti però ci sono proprio i portasaponi che io ancora non ho preso non mi sono decisa praticamente dove potete mettere la bottiglia e fanno veramente figura ma già la confezione in sé fa figura da sola quindi questi erano tutti i prodotti che ho preso con una promozione veramente vantaggiosa attualmente non so che tipo di promozione ci sia per il black friday magari ve lo scrivo qui e se volete provare questo tipo di brand questi saponi che secondo me sono veramente buonissimi se vi piacciono i saponi molto profumati oppure profumi per ambienti che durano tantissimo io vi consiglio di approfittare degli sconti di questi giorni spero con questo video di esservi stata utile fatemi sapere se anche voi avete ordinato se avete un sapone del cuore che tipo di profumazione vi piace scrivetemelo nei commenti perché io li leggo e vi rispondo subito mi raccomando prima di andare via lasciatemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi anche su instagram per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiamo al prossimo video e buon black friday ciao